Il Teramo affonda in laguna sotto i colpi del re di vivo Geico, il centravanti del Venezia, asso del mercato e che ha atteso proprio la gara col diavolo per sbloccarsi. Non è proprio tutto da buttare per la squadra di Nofri che ha tenuto il campo con personalità ma ha pagato gli errori in fase difensiva e può rammaricarsi per aver sciupato dopo la rete del vantaggio l'opportunità per il potenziale 0-2. Sbagli che contro una big come il Venezia si pagano. Nofri conferma l'11 previsto alla vigilia 3-5-2 con il debuttante Sales a destra, il rientrante di Paolo Antonio a sinistra, Peterman in cabina di regia e croce al fianco di Sansovini. Nel Venezia Out Domizi, Geico vince il ballottaggio con l'ex Moreo e affianca Ferrari. In avvio di gara il Venezia prova a spingere sull'acceleratore con alcune sortite che vedono protagonista lo scatenato Marsura ma il Teramo non sta a guardare e al ventesimo si rende pericoloso con la girata da buona posizione di Di Paolo Antonio che saggia i riflessi di Facchin. L'estremo lagunare però nulla può al ventitresimo sul tiro di Carlo Ilari dal limite. Un sinistro a giro che è una meraviglia, palo rete e conclusione dunque imparabile per Ilari e il primo gol in maglia bianco-rossa. Il Teramo prova a cogliere l'attimo ma non ci riesce. Il cross di Sales è invitantissimo per Bulevardi che sciupa clamorosamente al ventottesimo. E alla mezz'ora il Venezia impatta sugli sviluppi di una punizione calciata da Peter Zoli. Baldanzeddu crossa dalla linea di fondo e per Geico è un gioco da ragazzi, correggere in rete il pallone dell'1-1. La squadra di Inzaghi ha anche l'opportunità dell'immediato sorpasso al 35esimo con lo scatenato Marsura. Doppio passo e conclusione smorzata da Rossi. La palla sta per entrare ma Dorazio spazza nei pressi della linea. Dentro o fuori? Il Venezia protesta per Luciano di Lamezia Terme. Non è gol. Prima dell'intervallo ancora Venezia pericoloso con la punizione di Peter Zoli e traversa piena. Il sorpasso però è rimandato all'inizio della ripresa. Prima Marsura va a seminare il panico nella difesa bianco-rossa. Rossi è attento e dice due volte di no. Poi al nono arriva il gol del 2-1. Garofalo scende e crossa in maniera tagliata e precisa per la volée di Fabris. Piatto destro che fa secco Rossi. Nofri inserisce Scipioni e Petrella per Sales e Croce. E i due si fanno subito notare. Petrella scalda i pugni di Facchin. Poi dalla distanza tenta anche Scipioni. E l'estremo del Venezia stavolta interviene a mani aperte. Il Teramo attacca ma il Venezia a colpire di rimessa. A nove minuti dalla fine Fabris dalla destra fa partire un traversone. Geico controlla con il petto e incrocia perfettamente col sinistro. Gran finalizzazione per l'ex Bresciano che chiude la partita. Prima del triplice fischio Facchin si esalta ancora sulla conclusione ravvicinata di Bulevardi. E blinda il 3-1. Un'altra trasferta amara dunque per il Diavolo la cui classifica piange dopo la prima sconfitta delle Ranofri. Sette punti e piena zona play-out.